E' una donna? Il mio problema è l'eroe misterioso. Dimmi che sei vero. La rabbia che governa questo mostro viene da lontano. Hai pensato che cosa accadrebbe se si sapesse che proprio tu ti stai impecciando di questa storia? Quell'uomo è là fuori. Nessun animale lascia un segno così. Non mi crederanno mai. Nessuno crederà alla povera pazza. Ovunque andrai, ti basterà dipingere un'altra porta di verde. E io verrò da te. Grazie a tutti.